Iniziamo la serie sui Lucky Block, quelli che abbiamo costruito noi E guardate lì dall'altra parte c'è un mio amico che si chiama Nick Ciao Ebbene sì, adesso iniziamo, guardate, io ho fatto una bellissima costruzione Perché a differenza di Nick sono capace di costruire Ma non è vero Guardate, guardate che bella, cioè non si nota nemmeno Però porca puzzarda, è proprio particolare, secondo me è molto carino E io ho messo anche le bellissime shader che così vediamo tutta la luce bellissima Però adesso Nick possiamo iniziare a scavare i Lucky Ecco, oddio Ma perché, ma Nick, è colpa tua, ma non ti vergogni Ma cosa c'entro io adesso? È colpa tua, ti dovresti vergognare, sai Porca puzzarda No, comunque ragazzi, era da un po' che tipo non portavo i video, no? Perché non li portavo? Perché ovviamente era un po' difficoltoso fare tutto questo insieme alla scuola No, allora prima di tutto ho portato i video, ma hai portato i video in solo Yeee, le patate Ok, però devo dire che ho fatto bene a mettere i blocchi invisibili Devo dire che il 9 giugno, no, noi siamo a giugno, siamo a maggio Mi confondo sempre, ok siamo sempre Ragazzi dovete sapere che io mi confondo sempre fra maggio e giugno È un problema questo, potrebbe essere una malattia, potrebbe anche darsi Ma c'è il villager che mi sta spaccando Come ti permetti tu, schifoso Puzzacchione schifoso puzzardo che non sei altro Dovresti scurreggiare da qualche altra parte Quindi iniziamo le live ma sul canale Viola Il link lo trovate in descrizione o nei commenti Mi raccomando cercatelo bene perché il link è importantissimo Veniteci a trovare perché sarà bellissimo Sarà Avete capito che importanza che hanno le live Perché le live sanno Oh porca Che successe, Dunis? Credo di avere un pro... No, Nick, aiuto Ma hai messo il Keep Inventory, vero? Hai messo... No Ok Come no? Ma non l'hai messo te? Nick, 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 hai detto... Nick, 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 no, così allora però no Allora, Nick, Nick Non iniziare a fare eh eh Allora, prima cosa Ma che caspita? Ma perché è notte? Non lo so perché è notte, aiuto Allora, scusate se vedete tutte queste cose in chat È normale Allora, Nick, facciamo una cosa Aiuto Tu adesso mi spieghi perché caspita? Perché caspita? No, 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 scusate un attimo Chi il chiocciola è? No Sì Allora, Nick, mi spieghi perché caspita E dico io perché caspita mi ha detto che lo mettevi tu se poi alla fine non l'hai messo Perché? No, ti spiego, perché ti hai detto il comando Perché mi sembra che l'avessi messo te No Allora, slash Allora, facciamo così, mettilo però, mi raccomando, è importante Mannaggia, oh, io come faccio ad avere a che fare con queste persone? Scusate, ci siamo un po' arrugginiti a fare i video Mi ridici un attimo il comando Oh, santa Ho capito Oh, però, Nick, devo fare proprio tutto io No, ecco, ho fatto male, game Keep inventory true Bene, così, vedete? Sono tutti strani i comandi, ragazzi, che anche voi dovete imparare Perché se giocate a Minecraft Vabbè, no, se non volete impararli è normale Però, mettiamo una musica bella Questa cosa è molto bella Quindi, stavo dicendo, le live sono super importanti Perché? Perché? Sì, vabbè, ma veramente Cioè, questa è una maledizione Ragazzi, nelle live succederà questo ed altro Quindi, allora Weather, dai, per favore Claire Però, facciamo così Se no, poi dopo viene sempre Mamma mia, davvero Devo bloccare la pioggia prima, però Sono stupido Ok, perfetto Oro Adesso muoio Adesso muoio Io non ci voglio credere Stai zitto che non stavo parlando con te, Nico Stupido ignorante No, stai parlando basso Stai parlando basso Stai parlando basso Stai parlando basso Sì Scusa Eh Dovresti stare un po' attento a queste cose Perché sono importantissime Eh, scusami Hai ragione Mi hanno Mi hanno ammazzato di nuovo Il karma, vedi Ma tu no Allora, il karma te lo do io Perché se non Eh Allora Kill loonis Perfetto Sì, però non è possibile Cioè, io sto per piangere un pochino Oddio Non che posso Aiuto Cos'è successo, Nick? Eh, succede roba Cioè, mi ti sponata roba Come ti sponata roba? No Minerali Minerali No, dico minerali Sì Ok Non ho capito cosa Perché Che problemi hai? Non ne ho idea Vabbè Facciamo finta, ragazzi Che noi lo ignoriamo Tanto è sempre escluso Nick Da tutto Quindi giustamente Dovrebbe essere escluso anche da questo Sto scherzando, Nick Non te la prendere così tanto Perché se no poi dopo Piangi troppo E non va bene Però, praticamente Cosa io avevo in mente Avevo in mente di dirvi una cosa, no? Che praticamente sulle live Se me la fanno fare Sti bass Dicevo Nelle live, ragazzi Sarà bellissimo Perché faremo un sacco di avventure Nick Non mi... Se mi interrompi anche tu Ti giuro è la tua fine Su Minecraft Usa Ok, bene Ma schifoso Ragno che non sei altro Anche se non ero un ragno Ma non me ne frega un caspito Perché se io faccio una cosa Devono stare tutti quanti fermi Anche i ragni No, no Non litigare con me, sai? Ti do un pugno Ti do un pugno Ocelot Non ti permettere Ah No Basta È la tua fine No Basta No, continuano Continuano Cosa hai fatto tu? Perché dici che qui ti... No, niente, niente Non ho fatto niente Ok, allora Facciamo così Dovresti parlare delle cose Che... Di cui parliamo noi E poi parla bene Per favore Perché... Ok, ok Ok, bene Se no diventa tutto un casino Non si capisce niente Andiamo nella mia fortezza Super sicura Perché tanto Non è indistruttibile questa fortezza A meno che non vai in creativa Ma chi va in creativa Non c'è Non si dovrebbe andare in creativa No? Se sei in alla che cosa Scherzavo Adesso torniamo giù Perché mi sentivo... Ma perché ho fatto io questa cosa? Perché mi sentivo più sicuro E più protetto Vabbè Eh, non so perché È tutto rotto qua Probabilmente perché È esploso il creeper prima Però se ci sono le barriere Ma io veramente Non sto capendo un caspito Di niente Allora, Nick Come sei messo con gli oggetti? Dimmi un po' Eh, sono messo abbastanza bene In realtà Ok, cioè In che senso bene? Allora Ho una spalla di diamante Una... Una corazza di ferro E tanti minerali Perciò sono messo bene Ok, quindi sei messo bene Anche un'armatura Scusa Ma io ho quelli sfortunati A quanto pare Cioè, seriamente Ma non è normale Questa cosa Che sei di nuovo messo notte Cioè, scusami Ma perché sta succedendo Sta roba? Ma non... Allora Vabbè Facciamo finta di niente Allora Mi sto leggermente alterando Come si può vedere Porca miseria Raga È pieno È pieno È pieno Cioè, non potete capire Ma è pieno Cioè, nel senso Nick Tu non hai la minima idea Ma qua è pieno di robe No, mi vuoi fare un regalo Ok, mi vuoi fare un regalo Aspetta un attimo Che è un po' complicata La situazione qua da me Allora Che regalo vorrei... No, no Quanti... Ma il regalo Perché, perché... Perché? No Per essere sicuro Magari, non lo so Mi volevi ammazzare Ho detto Non va bene questa cosa Perché si mi vuole ammazzare Cos'è successo? Anni Cosa cazzo hai fatto? No Non Allora Porca miseria Stiamo... No Ok, basta Vado su un'altra isola Allora facciamo così Siamo un po' arrugini Ti vuole i video lunghi Ok È degenerato tutto Sì, sì Non ho capito cosa hai detto Ma sì, certo Che E' degenerato tutto Si è degenerato No ma infatti ma Perché praticamente Perché c'è un cavallo e uno schetro Che stanno volando Cioè come Perché Non è normale questa cosa Ci rendiamo conto Ma non lo so Ma è vero Attenso Ma scusate ma cosa sta succedendo Ma perché stanno spawnando Ma Nick sei te Mi sono chiamato L'unlucky potion Ma smettila basta No io Io questo qua lo ammazzo Ma sei te Ma no basta Cioè Come ti permetti Ma guarda Vimpiamo Vimpiamo Vieni qua Cos'hai detto Che non si è capito nemmeno Pwpiamo Vieni qua Eh sì Pwpiamo Il ponte è bruciato Ma vai a quel paese Te e tua sorellina Aia No è l'arco Sì E' la madì Oddio Ma avete visto che caspita fa Vabbè comunque Facciamo kill Perché ovviamente Se no Mamma mia ma che casino Cioè veramente Non è normale questa cosa Comunque Non è veramente normale Non lo so se è normale Eh esatto Parla più forte Se no ti devo uccidere Povero Nick Allora ciao Come stai No dai ma fai schifo No non faccio schifo Vedici così Perché mi ho ucciso Non è giusto Certo che ti ho ucciso È bello È bello ucciderti su Minecraft Questa è la mia isola Questa è la mia isola Vattene Sei esiviato No Ma come ti No Nick Non siamo più amici Basta Io ho chiamato No Ti posso chiamare Per dire che non siamo più amici Boh non lo so Comunque Vi ricordo Stai zitto Che è di nuovo Un momento spam Vi ricordo Cari miei amici Scempionzunci Popolo Amici bellissimi Che guardate i miei video Da casa Cosa C'è Ci sono le live belle Di Dunis Live Dunis Ok Venite Live Dunis RFP Se scrivete su Twitch Oppure Vi metterò il link In descrizione E nel primo Cioè nel commento Diciamo su YouTube Che voi vedete Di tutte le cose Che ovviamente È giusto anche così Quindi Venite Perché lì Inizieremo una nuova Avventura Prima di tutto Una nuova avventura vanilla Poi secondo Vivremo nuove avventure Bellissime Straordinarie Magiche Mitiche Favolose Stratosfericamente Belle E vi aspettiamo Su questo canale Viola Vero Nick Aia Sì Vero Ma Aia Vero Che ci aspettiamo Yuhuu Yuhuu Venite Aia Questa strega È antipatica Ma vai a cagge Ok Perfetto Bene Ti assomiglia molto Allora Quella strega No Queste Io sono l'unico Che può fare Questi scherzi Non tu Chiaro È chiaro O non è chiaro Chiaro come l'acqua Bene Perfetto Perché se non era chiaro Cercavo di fartelo rendere chiaro In un altro modo E non ti posso dire che modo Che paura Ma sì Perché se no Adesso No ok Va bene Va bene Che paura Ok ok Va bene Ok no sì Certo certo Ma dopo tutto è normale Che tu dica questa cosa No Non parteciverai mai più Al prossimo video No Quindi ragazzi Carissima Carissima Noi ci vediamo al prossimo video Ciao